Un giro del mondo attraverso la musica internazionale. Ascolteremo infatti i brani su musiche di Kurt Weill in tedesco, inglese, spagnolo. Ovviamente c'è un omaggio anche per la musica italiana, un omaggio in particolare a Battisti e a Mina. Tutto questo è condensato in due grandi personaggi. Al piano il maestro Luigi Largo del Teatro San Carlo di Napoli e il ballerino del Teatro San Carlo che questa sera si propone in una veste diversa perché lui è anche considerato una di quelle voci emergenti. Vincenzo Capezzuto. Il duo Luigi Largo al piano, Vincenzo Capezzuto. Vincenzo Capezzuto. Vincenzo Capezzuto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti